Va bene, allora un saluto a tutti, a tutti gli appassionati di scienza che attendevano per questo novembre la settima edizione di Scienza Ultima Frontiera e che invece resteranno un po' bocca asciutta a gioco forza perché l'edizione pur pronta da molti mesi è stata rinviata, rimandata a tempi migliori, i tempi in cui potremo trovarci di nuovo di persona, in cui potremo portare gli scienziati proprio in mezzo al pubblico in un confronto diretto, personale caldo, è il motivo per cui non abbiamo aderito all'idea di fare tutto online che veniva un po' la lezioncina che a noi piace meno, il contatto diretto insomma. Quindi appassionati di scienza questo novembre a Brugheri dopo il settimo anno non ci saranno i venerdì della scienza, però l'attenzione per la scienza è più che mai viva e per cui in questo novembre io cercherò di farvi conoscere i relatori che avevamo individuato, ti ricordi Elena Fin da dicembre scorso, ecco sono con Elena Cattaneo che è la mia preziosissima partner dell'organizzazione ed era dicembre ti ricordi che parliamo di corpo e salute e in giro di una settimana sono venuti fuori i cinque nomi, i stati erano pronti a venire e la rassegna da gennaio era pronta, a settembre era stata aggiornata con le vicende del Covid e alla fine ci siamo dovuti arrendere. Per cui Elena non ti avremo all'auditorium o in altri luoghi e quindi intanto vorrei che salutasti i cittadini di Brugherio e dicessi che ci sei, anche se sei in isolamento anche tu, giusto? Sì, sono in isolamento perché mia figlia appunto ha pensato di farmi un regalo di compleanno due settimane fa di regalarmi la prenotazione per un tampone, insomma lei lavora in un ospedale l'ospedale offriva questa possibilità ai familiari ed è successo appunto che il giorno del mio compleanno ho fatto il tampone e ha avuto esito positivo, sono assolutamente asintomatica così i miei familiari ma dal 24 ottobre sono chiusa in una stanza, ma insomma con la scienza sempre sotto gli occhi in collegamento costante con il laboratorio, insomma è stato ovviamente messo in totale sicurezza secondo le procedure, secondo insomma tutte le disposizioni e continuiamo, si lavora, si lavora tantissimo quindi non c'è, non esiste ultima frontiera forse, l'ultima frontiera è per noi insomma questo schermo di computer attraverso il quale comunque raggiungiamo tutti, anche i cittadini di Brugherio, davvero che saluto con tanto affetto, non vedo l'ora anch'io di essere di nuovo nell'auditorio ma con insomma quegli speakers di cui appunto non diciamo i nomi mi sembra, ok ok e insomma ci rivedremo presto di sicuro. Tanta gente anche passa in biblioteca e ci chiede allora quest'anno lo fate, fino all'ultimo noi abbiamo sperato ma adesso insomma. Senti ne approfitto che ci sei perché devo, vorrei chiacchierare un attimo con te di una cosa che sento molto attorno a me anche tra la gente che viene in biblioteca ma non solo insomma, cioè è un periodo in cui la scienza sarebbe dovuta uscire come la principale arma che noi abbiamo per difenderci da questa infezione e invece il rischio è che la scienza nesca con le ossa un po' rotte insomma, nel senso che qualcuno dice ma insomma ma non trovano la soluzione, altri si buttano su soluzioni da ciarlatano e molti denunciano voci contrastanti e quindi dice ma la scienza sa non sa se litigano, tu cosa puoi dirci su queste cose? Che è solo l'apparenza questa e insomma bisogna scavare dietro l'apparenza, magari ricorderei le parole del Presidente della Repubblica solo pochi giorni fa, lui disse insomma ci ha ricordato che il Covid verrà sconfitto dalla ricerca e che cosa vuol dire questo? Vuol dire che insomma dietro a quelli che possono sembrare degli apparenti conflitti della ricerca e della scienza in realtà c'è il modo di discutere animatamente degli scienziati, degli scienzi, normalmente queste discussioni avvengono nei luoghi della scienza quindi attraverso le riviste scientifiche piuttosto che a congressi, quello che è successo con questa emergenza Covid è che insomma la comprensibile pressione dei cittadini e della politica ecco che insomma ha acceso i riflettori sulla scienza negli luoghi pubblici dove la scienza non è abituata ad arrivare nel suo cammino mentre cammina verso la scoperta, è abituata ad arrivarci e a spiegare la scoperta nel momento in cui la scoperta è stata raggiunta, nel momento in cui il pezzo di conoscenza è stata conquistata. Quello che ai cittadini può sembrare come un conflitto è in realtà il normale dibattere intorno a un oggetto sconosciuto e all'inizio del cammino verso la conoscenza. Però ecco mi spiacerebbe appunto se restasse di questo cammino solo questo insomma confliggere magari appunto in quale in qualche intervista televisiva o magari su qualche giornale perché in realtà dietro ci sono dei passi soli che la scienza sta compiendo e magari non so con te potremmo toccarne qualcuno. Quindi l'altro punto forse da dire è che la scienza ha il suo tempo, c'è il tempo della scoperta, la scienza non è un jukebox da schiacciare in cui metti desideri e risorse e il giorno dopo avrai, non è questo jukebox, la scienza è un ambito da coltivare ogni giorno in epoca di pace per avere in epoca di guerra appunto il più possibile, il più rapidamente possibile un passo che deve essere, cioè la rapidità non deve andare contro la sicurezza e l'efficacia. Quindi insomma forse c'è qualche percezione sbagliata di cosa sia la scienza e ce ne accorgiamo proprio adesso. E quindi la scienza lavora, tu hai qualche notizia dalle ultime frontiere delle scoperte perché poi noi leggiamo i giornali ci sembra che non hanno ancora scoperto, non sono arrivati al vaccino, non hanno il farmaco, poi nessuno invece conosce la letteratura scientifica, quindi magari non sappiamo che ci sono migliaia e migliaia di ricercatori che trovano delle cose, è così vero? Guarda, non solo è così, ma è anche un po' un dispiacere che ho nell'immaginare o comunque nel sapere, sono consapevole che non possa essere diversamente, che non si percepisca la tensione, la precisione, il rigore e la densità degli esperimenti in corso in ogni angolo del mondo. Insomma ricordiamo magari ai cittadini di Brugherio, io so che loro sono tutti preparati perché appunto sono stati allenati. Eh sì, da sei anni. Ma ricordiamo che noi abbiamo conoscenza di questo oggetto dal 10 gennaio del 2020 e che questo oggetto è più piccolo di 160 nanometri, non esisteva, non conoscevamo nulla. Dal 10 gennaio conosciamo il suo genoma, le sue lettere. Dal 10 gennaio lo tracciamo ovunque nel mondo. c'è addirittura un sito web che è mantenuto e coordinato da una serie di università straniere e di colleghi scienziati che proprio mappa il genoma del virus in giro per il mondo, quindi segue nelle persone positive, quindi isola il virus e sequenze al genoma anche per misurare e vedere le sue eventuali variazioni e non sta variando tantissimo. Cioè varia, ma insomma in quasi qualcuno potrebbe dire prevedibile e non varia nei siti verso i quali si stanno cercando di produrre farmaci. Comunque dal 10 gennaio lo conosciamo, dal 10 gennaio sappiamo non solo il genoma, ma sappiamo come entra nelle nostre cellule, entra attraverso una porta che è un recettore per una molecola che noi abbiamo nel nostro organismo. Sappiamo una volta entrato cosa fa, ma non solo abbiamo sviluppato e abbiamo a disposizione dei modelli animali importantissimi per capire tutto questo e per identificare. Non solo se ci avviciniamo proprio agli ultimi giorni, perché insomma questa scienza produce dei punti fissi, questo va ricordato, che sono appunto solidissimi, oltre al dibattere ci mette lì insomma delle bandierine solidissime. Tra queste bandierine magari ricorderei due studi che sono proprio di pochi giorni fa, che sono studi che possono essere veramente insomma importantissime e fanno guardare all'orizzonte con fiducia. Uno studio è pubblicato su Science settimana scorsa, è uno studio che ha visto il coinvolgimento di 30 mila pazienti, 30 mila. Quindi immaginiamo anche questa scienza che prima non conosceva questo oggetto e dopo dieci mesi arriva a mettere a disposizione studi condotti su 30 mila pazienti. Lo studio è stato coordinato da Università Americana e di New York. Cosa dice questo studio? Dice che nel 90% delle persone, dei pazienti che hanno avuto infezione da Covid, nel 90% si possono misurare degli anticorpi neutralizzanti contro il virus, che persistono per mesi, addirittura cinque mesi. Infatti usa questa parola, l'articolo dice nel 90% delle siero conversioni, cioè di persone il cui siero, la cui risposta immunitaria si è convertita, cioè quindi ha avuto l'accumulo, la presenza di anticorpi contro il virus, il 90% di loro, mantiene questo titolo anticorpale addirittura per cinque mesi. Ecco, a me questa sembra un punto importantissimo, fondamentale, perché ci dì che se sviluppiamo degli anticorpi, perché in fondo la nostra risposta anticorpale può essere, possono essere identificati quegli anticorpi di cui resta il titolo alto e sono anticorpi neutralizzanti il virus e possono essere prodotti in laboratorio e quindi nelle aziende utilizzate. Qui arriva il secondo studio. Infatti c'è un enorme interesse a sviluppare non solo i vaccini, ma anche gli anticorpi neutralizzanti e noi in Italia tra l'altro abbiamo uno delle persone più famose in questo ambito, Rino Rappuoli che lavora in Toscana e stanno sviluppando alla Siena Biotech e nell'azienda di cui fa parte di altri corti, proprio seguendo questo principio. E questo articolo, questo secondo articolo che uscì, New England Journal of Medicine, due giorni fa, dimostra che un anticorpo neutralizzante prodotto dalla Eli Lilly, quindi un'azienda farmaceutica, noi abbiamo bisogno del coinvolgimento delle aziende, questo anticorpo neutralizzante è in grado di ridurre la carica virale. Anche qui è uno studio condotto su un buon numero di pazienti, perché noi queste cose le guardiamo, è uno studio su piccoli numeri o su grandi numeri, addirittura 450 pazienti, di cui 300 sono trattati con diverse dosi di farmaco anticorpo neutralizzante il virus. 150 pazienti che hanno ricevuto il placebo. Cosa dicono? Dicono che questo anticorpo è in grado di ridurre la carica virale, quindi di abbassarla e come esito hanno misurato il fatto che si riduce anche la percentuale di ospedalizzazione. Quindi coloro che hanno ricevuto il farmaco anticorpo neutralizzante, hanno una parte, si passa dal 7% di questi sarebbero andati incontro all'ospedalizzazione, ebbene con il farmaco l'ospedalizzazione si riduce all'1%. Ma questo diciamo che è comunque un esempio e io sono sicura che emergeranno altri anticorpi neutralizzanti che insomma produrranno altri benefici. Insomma questo per dire una cosa, che la scienza mentre dibatte sotto i riflettori e dibatte perché vuole rispondere, interrogata vuole rispondere e mentre cammina, mentre si muove in questo percorso, ovviamente le persone che sono interrogate, gli studiosi che sono interrogati possono avere una interpretazione leggermente diversa dell'oggetto del contendere, perché uno è un epidemiologo, l'altro è un virologo, l'altro è un infettivologo, l'altro è un modellista e sinceramente non mi spaventa e vorrei che non si spaventassero i cittadini del fatto, anzi per me è un segno positivo che così tante competenze siano messe in gioco, competenze che devono parlare comunque con un linguaggio, con un linguaggio comprensibile, mentre si dibatte ecco che c'è la scienza comunque che consegna queste conquiste raggiunte in pochissime tempo. Certo, chiaro. Devo però farti un'altra domanda perché tu hai come sempre questa duplice veste scienziata e politica e quindi volevo capire che cosa percepisci del mondo della politica, tu hai rilasciato qualche giorno fa un'intervista in cui hai usato la parola diffidenza, hai detto che c'è una sorta di diffidenza reciproca, vuoi spiegarci un po' che cosa percepisci, che cosa vedi tu? Sì, è una diffidenza che mi viene da dire comprensibile quando non ci si frequenta, e scienza e politica per anni non si sono frequentate, si sono talvolta sopportate oppure mi viene anche da pensare reciprocamente sfruttate, ma non si sono mai forse avvicinate al punto da considerarsi una risorsa indispensabile insieme per il Paese, perché il decisore politico può beneficiare dei dati e del metodo della scienza per meglio governare, per meglio decidere, e d'altro canto e la scienza può fornire queste informazioni, solo che appunto se non c'è questa frequentazione oppure se è una frequentazione anomala, ecco che cominciano i cortocircuito e questi li abbiamo visti nel nostro Paese costantemente, quindi decide sul miglioramento genetico delle colture e quindi della piante, a prescindere dai dati della scienza, quindi addirittura chiudendo la ricerca in quell'ambito senza sapere o senza cogliere che si tratta di una tecnologia assolutamente sicura, lo dice la scienza, lo dicono i dati, che potrebbe dar beneficio al Paese, se la politica non consulta la scienza ecco che succede il disastro di Xilella che appunto distrugge gli ulivi in Puglia appunto per non aver adottato procedure che tra l'altro sono procedure europee che erano state scientificamente sperimentate e organizzate, se la politica non consulta la scienza succede stamina, quindi uno dei più grandi imbrogli e frodi della storia della medicina degli ultimi cento anni, di cui anche scienza ultima frontiera, insomma trattato è stato l'inizio, quindi forse è il momento anche di capire che questa reciproca frequentazione e comprensione del metodo della scienza e della supremazia della politica e delle sue decisioni sono insomma un ambito che mi viene da dire per forza deve lavorare insieme perché alla fine insomma è il cittadino, sono i cittadini di Brughe in un Paese che devono beneficiare di questa interazione e non averla ovviamente può avere delle conseguenze assolutamente negative su tutti noi. Certo, sì c'è qualche problema di connessione ma perché tu sei isolato in un angolo un po' remoto di casa tua giusto per salvaguardare i tuoi familiari, vero? Sì esattamente. Però penso che le parole si siano sentite tutte, c'è stato qualche piccolo sfasamento tra voce e immagine ma sono così preziose le parole che possiamo ascoltare che ci scuseranno di una qualità non eccelsa. Bene allora noi ci diamo appuntamento, noi vogliamo stare col pubblico, vogliamo gli scienziati in mezzo al pubblico, quando? E non lo sappiamo ovviamente, nel senso che chissà come dicevi tu questo nuovo venuto al mondo lo conosciamo da poco e non sappiamo quando diventerà inoffensivo, quando riusciremo a tenerlo sotto controllo, comunque speriamo presto magari in primavera e se non sarà sarà per il prossimo Ti ringrazio moltissimo, quindi vuoi dare tuo appuntamento ai cittadini brugheresi? Grazie Bill e innanzitutto Ermanno alla biblioteca e al comune, all'assessore, perché insomma questo trasporto di includere i cittadini è veramente meraviglioso, di includerla anche in un ambito che può sembrare apparentemente difficile come quello della scienza, in realtà le serie che hai coordinato e le domande straordinarie dei cittadini nell'auditorio hanno tutte le volte dimostrato che non esiste niente nella scienza che non possa essere spiegato ai cittadini Bene, grazie mille, in bocca al lupo per tutto, per il tuo lavoro, per la salute, per la tua famiglia e ci vediamo presto Grazie ancora Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille